Oggi come potete vedere sono state resettate le ranked Ma soprattutto abbiamo ancora un sacco di uova mostruose da aprire Quindi ho deciso di unire queste due cose assieme e andare a fare una challenge veramente estrema Perché oggi tutte le vittorie che andremo a fare In cui valgono ben 12 uova che dovremo andare ad aprire Ragazzi io qua ho visto che hanno messo nuovi modificatori, nuova roba Non ci sto veramente capendo più niente Ma mi raccomando per altri video di Brawl dove andiamo a scioppazzare In generale ragazzi se vi piace Brawl Stars è il canale giusto Quindi un'iscrizione al canale con campanellina, lasciate like E guardate tutto il video dall'inizio alla fine signori mi raccomando Anche perché oggi sono curioso di vedere se riusciremo a finire le uova Che effettivamente abbiamo nel negozio Cioè che si possono scioppare perché ne dovrebbero mancare 72 Ora non so se ho fatto il calcolo giusto Ovviamente no, sicuramente no Però ragazzi più o meno siamo lì Vai via signor Edgar Mamma mia o comunque il mio team vabbè Ci tengo a precisare che siamo anche a comunque un grado abbastanza basso Cioè argento raga Non è sta gran roba Oh porca miseria, oh porca miseria Via 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 Stavo dicendo siamo argento Quindi le partite saranno molto molto easy Ma è quello il bello Perché così potremo andare a scioppare molte a molte più uova Ehi Bea Stai calmo Mamma mia mamma mia No no ragazzi levate quella torretta schifosa Bravo Spikinho Orca miseria Bello Uccisa Fammi prendere, fammi prendere Vado via Buono nove E ancora una Aspetta, aspetta, orca miseria Non piazza la torre Spacca l'Edgar Spacca l'Edgar Ok bravissimo Edgar Ole Apriamo tutto ragazzi Meglio aprire qua con Piper Comunque ho fatto una partita Devo dire abbastanza Egregia Voglio dire Ho giocato Stra stra Vabbè Ok Ragazzi Oh l'ho vista L'ho vista veramente male Mamma mia ragazzi Mamma mia Meno male che è finita Meno male Ci portiamo a casa 8-0 48 mila danni ragazzi Che partita il mate Guardate lì Partiamo con la prima vittoria Mamma mia 175 punti Che roba incredibile Sempre bello l'inizio dei ranked Ma ora partiamo Senza scioppare Perché ragazzi Adesso ci sono usciti 6 uova mostruose Così a caso E anche 10 premi star Io parto dai 10 premi star Che sono quelli che Attualmente mi interessano Un po' di meno Sinceramente preferisco Aprire quelle bellissime uova Anche per andare ad aiutare Il clan Comunque andiamo su Super raro Ok Niente Va bene Però almeno Almeno un mitico Un mitico In 10 star droppini Non chiedo un leggendario Un mitican Un mitican In the star dro Ok Stavo per dire un altro Super raro E veramente potevo impazzire Raro raro Vabbè Meglio il raro Del super raro Va bene Così Madonna ragazzi Che star droppi schifosi Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Come sono andati i vostri Perché I miei C'è un epico Qualche super raro E dei rari Mamma mia Che schifo Tanto riscattiamo qualcosa Di giornaliere Sì Non ce ne frega niente Ora ragazzi Prime Uova Del Giorno Con la prima vittoria Ragazzi Andiamo Primi 20 crediti Va bene Va bene Perché noi ragazzi Se non lo sapete E vi siete persi gli ultimi video Ve li lascio qua Nel riscattito Sul canale Abbiamo già finito Le mutazioni Trovabili Quindi troviamo i crediti Che possono anche servire Per la fama Però ragazzi A me mi mancano ancora Alcune skin di Brock Alcune di Buzz Cioè Mi mancano un po' di cose Quindi queste uova Ha anche senso aprirle Andiamo Dai 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 Rimane epico Porca misa Ecco Tipo 100 bling È la cosa peggiore Piuttosto dammi i crediti Sì Bling Ti puoi shoppare le skin Lo so ragazzi Però veramente Me ne dai 1000 È un conto Se me dai 100 Diciamo che ne posso fare a meno Comunque raro Dovrebbe essere finito Yes Nel mentre ci andiamo a riscattare Anche questo Sardropino Ma sì Va bene Tanto sono tutti rari Non ci sbagliamo Ma guardiamo Seconda partita Del giorno Vediamo se ci sono portati C'è la casa Esattamente la stessa mappa Di prima Con lo stesso modificatore Ragazzi Prima abbiamo giocato bene Con Pipe Perché non andare a replicare Oh la cavoli Gli altri hanno Effettivamente Un team molto più aggressivo Con Stu Spike Fang Noi siamo un po' più squishy Diciamo Ma vediamo come va ragazzi Tanto io comunque Ho il vantaggio Della distanza Ho il gadget Ho tutto per Ok Mamma mia ragazzi Nella partita di prima Era un cecchino Mo sto facendo Veramente schifo Quella torretta Jackie Penso sia la torretta Più bru Ok Mi sono un attimo rifatto Spike Oh dov'è la mia mira L'ho lasciata negli star drop Di prima Ok Killato Madonna mia ragazzi Ma sono vomite Ok Compito Questa torretta Non ci capisco tanto il senso Poteva aspettare a metterla Però vabbè Oh Bella sta chillozza Gli abbiamo fatto sprecarla ulti E questa raga è tanta Tanto 38 dita Ma porca miseria Ma come cavolo è possibile Ah Ok Bene 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 Andiamo a prendere la gemmozza Ma Questo fang raga Penso sia il peggior fang Che io abbia visto nella mia Bang Bang Via 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 Corri 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 che è meglio Allora Lì c'è Stu Brava Tara che l'ha visto Col piccino Dietro Bang Bang Ok Kill la Edgar Eh sì Edgar Perché ho chiamato fang Edgar Un'altra kill per noi Bene 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 E io vorrei spaccare al centro raga Devo essere sincero Ma tanto è abbastanza inutile Perché poi da quel che ho capito Si rigenera L'erba esattamente In quel punto Quindi Non so se ne valga la pena Ragazzi Abbiamo già le gemme Non rischiamo Vinta Prendo il volo Ragazzi 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 Ma porca miseria Ok Oh mio dio Ma siamo seri Ok Ucciso Spike Madonna ragazzi Ma questi sono scemi Ma che Che necessità c'era Di pushare Boh ragazzi Io veramente No Mamma mia ragazzi Mamma mia Sì va Io ragazzi Non posso vivere così Cioè io ve lo dico Io proprio non posso vivere così Andiamo nei star drop in Oh mi sto rompendo le palle Io non apro più star drop Basta È arrivato il momento Di andare a shoppare I primi soldini Faccio una shoppata unica Perché sennò Avviamente mi viene a costrare Troppi troppi soldi 360 gemme 360 gemme ragazzi Sì 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 Poi in caso Andiamo a prendere Delle altre estate Tranquilli Partiamo Prime 12 uova Proprio di fila Del giorno Ragazzi Io ve lo dico Io oggi punta minimo Due leggendari L'ho detto signore L'ho detto I crediti mi vanno bene Magari oggi riusciamo anche a fare La fama lunare Che non sarebbe male Comunque sarei curioso di avere la fama lunare 20 crediti vanno bene Vanno benissimo Super raro Dai dai iniziamo con la ciccia Va bene Ma voglio qualcosa di più Voglio qualcosa di stuccoso Ragazzi Me lo sentivo Mi è arrivata la telefonata Ragazzi Epico Rimane epico Dammi i crediti Icona profilo Non è neanche proprio bruttissima Quindi Ce la facciamo andare bene Dai ragazzi Andiamo Andiamo Super raro Ok Rimane super raro Monete E monete è proprio L'ultima delle cose Che ci serve Gioco Per favore Super raro Bene Adesso faccio il trick Su Su Giù Destra Sinistra Cavoletti Non funziona Mamma mia ragazzi Voglio Ho pure Ho proprio detto Riusciremo a farla E ce l'abbiamo fatta Sì ragazzi Che bella questa lunare No Non me l'attivo Perché c'ho quella Della leggenda Che mi piace molto Colore rosso Bello figo Ora quanti ne servono 3200 Ok Non penso che riusciremo A fare il primo livello Della lunare Anche se mi piacerebbe Ma le prime 10 uova Le prime 10 Le prime 12 uova Sono già andate Quindi ripartiamo Subito Dominio Con dominio Mi piacerebbe molto Lu ma non ce l'ho Quindi ragazzi Uno che proprio Spacca i cule La mappa è comunque Abbastanza Abbastanza stretta Secondo me sapete cosa Un thrower Tipo Larry E l'hury Dynamike Qua può funzionare Ti metti dietro i cosi Vediamo 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 Infatti Contro abbiamo Un dynamike Oh cavolo Edgar e BB Noi ragazzi abbiamo Kit Oh mio dio Kit nelle 3v3 È un po' particolare Signor Kit si svegli Grazie mille È molto gentile Andiamo ragazzi Andiamo a comandare Ok L'osso obiettivo È ricaricare Il prima possibile L'hury Signori Sapete che io credo Che questa sia persa Sì ragazzi Sono abbastanza sicuro Perché il mio team È proprio È la demenza Fatta team Ragazzi Cos Sì vabbè ragazzi Però dai No Cioè ma così No Raga Dai Ma sono fermi Ma sono fermi Ragazzi Vabbè ho pure buttato l'hury Perché tanto morirà Però ragazzi Che schifo Ma era una tecnica Oddio Ma se ne vada Bibi Ma che Mamma mia Che ulti schifo Bello bello lì Ti prego Ok lei è andata giù Però non basta C'è il mio team Non lo so Ragazzi Mamma mia Sto dynamite schifoso Bravo kit Sta iniziando a fare qualcosa di decente Il kit Tazzi Mamma mia Facciamo uno scambio al volo Anche se è stato lo scambio più stupido Che io potessi fare Perché Mi dimentico se Siamo 93 a 17 Mamma mia ragazzi Che schifo Eh sì Adesso abbiamo il dominio Ma allora Attenzione Attenzione perché No ma basta che entra Due secondi Vabbè Facciamo anche questa partita Non è mai esistita Perché ragazzi Io voglio dire Più di quello che ho fatto Cosa potevo fare Meno uno Che cosa mistica Dai andiamo avanti Che è meglio Ancora raffa gemme Queste mappe sono così strane Ragazzi Sto giro voglio andare di belle Per cambiare un po' Eh ragazzi La partita di prima Si è disconnessa Quindi dobbiamo rifare Di nuovo questa mappa Ragazzi Sto giro voglio andare di belle E volevo cambiare gadget Ho sbagliato Forca miseria Vabbè Perché non volevo troppo Volevo il colpo rimbalzino Perché qua ci sono Molti muri E devo dire che funziona bene Andiamo Andiamo Dai 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 Questo team mi sembra Leggermente migliore Rispetto a quello di prima Anche se Ragazzi dubito che Cioè Sia difficile Avere un team Peggiore Ok Qua così Ragazzi qua Gli cuciniamo per bene Quel Va bene Qua mettiamo una trappolozza Gli il colpino L'abbiamo colpita Mamma mia Che cecchino il mate Oh Che cecchino Boom 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 Ok non l'ho preso Con l'ultimo colpo Però ci sta Siamo attenti Siamo attenti Qua ragazzi c'è spugli Se stiamo noi al ce Ehi Ehi Bull Piccolo bulletto Andiamo così Bang Anche se Abbastanza Porca miseria Mamma mia La mia trappola Madonna ragazzi Mi ha salvato il culen Bene Ne rimettiamo subito un'altra Metterle qua al centro Fidatevi è tanta roba Con la lì c'è la torre Bella sai per charge di Edgar Bravo Edgar Occhio raga Che lì a sinistra C'è Jesse Eccola infatti Colpicino per lei Lì Bene Mettiamo il target a bull Bene Andiamo a rimettere subito La trappola Bravo Leon Bravo Leon Bravo Leon Ti faccio fuori quello Stupidino Mamma mia Non ho missato un colpo In sto game Che dominio Ragazzi Che dominio Gli il colpicino Senior bull Dai su Dove Oh cavolo Vai 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 Edgar Vai a far da scudo umano Per favore Scappa Leon Scappa Non rischiamola Ragazzi Che dire Partita Perfetta 58 58 Mila danni Vi rendete conto Ho fatto solo 3 kill Argento 2 pure Ma oggi si pusha Che è una meraviglia Bello lo sa drop Che palle Mamma mia ragazzi Certo che se sa drop Veramente sono Deva Schifosi Ma perché Cioè sapete Brawl mi fa Schifo da una parte Bene dall'altra Giusto Non lo so Non è che ci credo molto Però noi andiamo ragazzi Raro Partiamo subito Con un super raro Calma signore Dobbiamo avere la cal Dobbiamo avere la calma Dobbiamo avere la calma Perché è qui Che si vede la differenza Fra gli uomini E ragazzini Speravo in un mitico 100 credit Vanno sempre bene Anche se qua La fama lunare È un po' lontana Nel nostro traguardo Super raro Niente super raro Ma finché mi dai credit Guarda Vanno bene anche i super rari Super raro Epico Niente Crediti Ok Raro Niente Oh Neanche un mitico Brawl Mi pipe Culo Dai ragazzi Io ero partito Col presupposto Di due leggendari Non possiamo fare così schifo Oh Dai Super raro 200 monete È proprio La La cac Della cac Bene Raro Raro Se abbiamo Super raro Super raro Tac Ragazzi Credo sia arrivata La telefonata Sono sincero Credo sia arrivata La Telefonata Niente Io non so ragazzi Che è che mi sta Mi sta chiamando Il gigin Ma che cavolo Ma neanche uno mitico Siamo già tipo 24 6 Siamo già A 30 uova Finite queste Non abbiamo trovato Neanche un mitico Abbiamo avuto troppo culo Nell'eggo opening battle Contro max L'altro giorno Se avessete perso Mi raccomando Andate a recuperarla Ragazzi Che è stato devastante Mi raccomando Andate a vederla Intanto epico Rimane Visto ragazzi Bisogna sempre Lamentarsi col gioco Il gioco ti ripaga Ora però calma Perché siamo al mitico Potrebbe diventare Leggendario Stavamo a vedere Primo andato Secondo Terzo Quarto Quinto Sesto E' così che si fa Signori E' così che si fa Molto molto bene Primo uovo Leggendario Il mio obiettivo di oggi E' trovarne un altro Vediamo se ci riusciremo Qua possiamo Ovviamente aprirlo Come vogliamo Vediamo cosa Andiamo a trovare Vabbè Una skin Epica Ci può stare Anche carina Me l'attivo Anche perché non ho Tante skin di Bea Abbiamo anche altri uova Vabbè ragazzi Ci ha dato il leggendario Ah no Proprio finito Proprio preciso preciso E allora è il momento Di andare a fare Subito un'altra partita Vediamo Rapina Io ragazzi Rapina Mi sa che faccio La sgravata ragazzi Vado di Melody Vado di Melody Perché in rapina Guardate che Melody Apre cule in cule Non capisco la scelta Di Eugenio Ah Perché è il Il colpo in canna Ok ok Quindi giustamente Eugenio ci può stare Anche Jesse ci può stare Peccato che non abbia Hyper Certo Anche comunque Un Una star power Poteva far comodo Ragazzi Io cosa ci faccio In mezzo a questi Argento Argento Oro Vabbè Tanto sicuro L'andiamo a perdere Questo Non so perché ho Ho brutte sensazioni Per sta partita Vediamo Allora Lì c'è Edgar Mamma mia Come si recuperano Come si recuperano I colpi Raga Raga Devo andare Subito 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 Così andiamo Di scudo No brutto Fetente Dai Eugenio È un colpo No raga No raga Cioè ragazzi Io sinceramente Non ho parole Ma quella Ma quella Jesse Quanti colpi Ha missato Cioè ho letteralmente Fatto Tutto Io Eh ragazzi Questo è il prezzo Giocare con i randomini Ma vabbè Che dobbiamo farci Mappa su K Mappa Un po' particolare Io qua ragazzi Sapete che forse Vado di un angelo Sì 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 Vado proprio di angelo Sì Non me ne frega niente Raga Vado proprio Proprio di angelo È vero che adesso Posso utilizzare anche Lily Nel Anche se Lily Non è sta gran forza Contro abbiamo Iris Piper Edgar ovviamente Però noi ragazzi Siamo Secondo me È un bel team Attenzione perché Qua raga Angelo Guardate che può fare Dagni Mamma mia Subito È morto raga Ma porca miseria Oddio mio No Corvo Non me puoi morire Ok colpicino a segno E che sto mettendo colpi a segno Senza vedere niente Questa è la cosa bella Ok Lì Porca miseria Giustamente Piper Il gadget Quello di cespugli Raga è un po' forte Ok forse era meglio Piper Probabilmente yes Andata raga Andata Andata Guarda Ho pure sbagliato Andata due partite di file Ok forse il pick di Angel È stato un po' una cacca Mio dio ragazzi Ho sbagliato proprio tutto Però diciamo che Sono stato un po' stupido Anch'io Era palese Che Piper fosse meglio Però Ok Ok c'è Edgar lì Ragazzi Lo sapete Cioè voglio dire L'avete visto C'è Edgar lì Come faccio a farvelo capire Vi faccio un disegnino Ragazzi Che devo fare Io ho il gadget E quindi posso avvicinarmi Senza problemi per Porca miseria Andiamo via Andiamo via Non mi fido Se mi tiravo un colpo Raga ero morto Spike Ragazzi Ma neanche Neanche col fatto che Del gadget Non ho neanche saltato Proprio per Vabbè Due partite di fila Veramente uno schifo Ragazzi E cioè Ho giocato male Ho fatto un pic schifoso Ma Mi compagni Voglio dire Non è che siano stati top Dominio Dominio Io qua ragazzi vorrei andare Fatemelo prendere Fatemi prendere Fatemi cucinare Col signor Dynamike Andiamo signori Abbiamo due Thrower Madonna mia Ragazzi Ma non si può Giocar così Mio Dio Ma loro poi mi sembrano Dei bot Non ho guardato Perché stavo facendo Una cosa Però mi sembrano Abbastanza dei bot Ragazzi Sì forse Non dico che ve lo confermo Regà Ma diciamo che Madonna mia ragazzi Che Porca miseria Sono morto Della torretta Di jazzia Certo che Anch'io sto facendo Di tutto Per perdere Non aprire le uova Oh mi devo dare Una svegliata Immediatamente Siamo così Blocca tutto Ok Così Così Madonna mia Morice Ok Buono Calma Bulletto Vieni qua Ragazzi ma Cioè ma Veramente Sto facendo fatica Contro dei bot Ok che siamo Due thrower Ma porca miseria Certo ragazzi che noi veramente abbiamo l'unico Edgar che veramente Boh non lo so Ok buoni danni su quello lì Sì però ragazzi Cioè nel senso Stanno dominando loro Voglio di non Larry e Laurie Devi sparare addosso a Jesse Porca Vai lì Doppio danno Ci muoio perché avevo un pizzico di vita Dai Per favore Oh se perdo sta partita Raga il video finisce Io l'ho detto Fammi subito attivare il gadget Mazzagron per cortesia Grazie Bravo Edgar Oh la Cos'è se ti hai passato il telefono al cuginetto Che mo sei forte Fai così Sì ma sparo tutto Che se ne frega Dai è vinta Non so perché abbiamo fatto così Fatica contro dei bottazzi Non me lo chiedete Lancio un bel bombone lì Win 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 Signori E ora è il momento Di andare ad aprire le 12 uova Ah l'uovo giornaliero è vero Raro 100 monete Però lo schifo Questa musica è sottofondo Significa solo una cosa signori Uova Tac Via Altre 12 uova Perché La gente come noi Non molla mai signori Andiamo subito con superare Ricordiamo che abbiamo L'obiettivo Di trovare un altro Egg Incredible Legendary E attenzione Perché qui Con l'epico Potrebbe esserci Piano Ragazzi Ragazzi Quando vi dico che mate Un veggente È così Con calma signori Prima Seconda Seconda Su Giù Obliquo Destra Peccato Sono mitico Trovo la skin di squeak Eh Beh ragazzi Almeno questa è una bella skin Piuttosto di trovare 200 bling Come di solito Si trovano Nell'uovo epico Mi va bene raga Sono soddisfatto Di questa skin Va bene Va bene Va bene Poteva essere leggendaria Ma noi non ci abbattiamo Perché abbiamo come minimo davanti Secondo me ancora Queste 12 uova E poi altre 12 Probabilmente Vediamo Raro Super raro Ok Rimane con 100 monete Va bene Andiamo sempre Piano 50 bling La situazione Non trovo neanche crediti Che sono quelli che forse vorrei un po' di più Anche se ovviamente la fama non serve a niente Quindi Però Guardate Vi faccio un predict Questo rimarrà epico Perché C'è l'ultima due volte che c'è uscito un epico Poi è diventato O mitico o leggendario Questo sarà epico ragazzi Lo schifo Ok Ok ragazzi Non me lo aspettavo Mitico Calmi Siamo a due mitici e un leggendario Mi sa che è mitico È mitico È mitico È mitico 200 bling E beh Non me li ha dati prima Me li vuoi dare adesso Ci sta signore Ci sta Cosa Attenzione Perché qua ragazzi La situazione si sta un attimo degenerando Un altro uovo epico Questo è epico per forza Lo schifo Ok 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 Perché se no veramente mi viene un cocolon Ok Eh Ho sbagliato di nuovo Vabbè ragazzi Dai ci sta Ci sta Ci sta Apriamo ancora con il raro 20 crediti Giù a valangate Ne vogliamo sempre di più Sempre di più 20 crediti Yahoo E finisce qui ragazzi Abbiamo 38 gem Tranquilli che dopo andiamo a ricaricare Ora è il momento ragazzi di fare probabilmente l'ultima partita del video Vediamo ragazzi di nuovo in questa mappa dominio Ma sto giro Sto giro ragazzi voglio essere io l'Edgar Puscione senza futuro Proprio dritto per dritto Loro ragazzi non hanno qualcuno che possa fare tanti tanti danni Hanno Bibbia Hanno Sandy Ma comunque secondo me Io adesso mi ricarico al volo ragazzi Proprio al volante Ok andiamo subito Va bene Ci sta il colpicino Io voglio andare così ragazzi Ok Killata Sandy Bene 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 Orca miseria Oh cavolo Ragazzi Ragazzi Full team Proprio Edgar Proprio brawler più skillato Cioè ragazzi per usare Edgar ci vuole una skill Che l'umanità io credo non abbia ancora concepito Sono sincero Beh era questa torretta di Jesse proprio nel middle Fammi ricaricare un po' ragazzi Madonna mia L'abbiamo un po' distrutta quella Mamma mia se mi colpiva proprio al centro Ragazzi ora vuoi fare uno di quei push po' pazzerelli Capito Tipo Eh vabbè ragazzi però non mi fate divertire Porca miseria E dove vai Sandy Ok Dai la me che ci spacca la torretta Ma direi ragazzi che non è un problema Ma Ah Ok Ah Ok molto molto bene Brava Jesse Ancora con la torretta Bella lì Ah 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 Easy Easy Mamma mia che difficoltà a giocare con Edgar Signori Proprio Stavo tremando Ragazzi è arrivato il momento Andiamo a scioppare gli ultimi soldini Per andare a fare l'ultima Ego opening gata E vedremo ragazzi come andrà Ora qua ne mancano solo due Magari le apriremo in un altro video Ma ora voglio tutte le vostre mani in alto Perché all'inizio di questo video abbiamo fatto una scommessa Io avevo scommesso che trovavamo ben due uova leggendarie Non ho scommesso sui mitici perché i mitici sapete sono sempre un po' così Ma ne manca ben solo uno Un uovetto leggendario Per andare a confermare la mia Non lo so la mia prediction Speriamo ragazzi E partiamo subito con l'epico Attenzione 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 Perché qua potrebbe essere la chiave di svolta Rimane epico Rimane epico Che pinne è? Ah ok E poi arriva la zampa E no non capivo Va bene Super raro Oh stiamo andando bene eh Calma Calma Niente Niente Raro 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 Rimane così ok Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Bene Super raro Ora vogliamo un epico L'epico ce l'abbiamo Ora Prima l'epico se non sbaglio Ce l'avevo appunto lasciato epico Eh secondo me questo ancora rimane epico E il prossimo epico diventerà mitico Sono tutti ragionamenti miei ragazzi Voi non fateci caso Ok Finora è giusto E adesso vi dico che Appena ci uscirà il prossimo uovo epico Se mai ci uscirà Quello lì diventerà mitico Attenzione Raro ok Uno Due Tre Quattro Super raro Attenzione Attenzione No raga Oh non dimmi che non mi riesce più un coso eh Perché hanno sentito che io so la teoria di questo gioco Ragazzi non ce lo danno più Ragazzi non ce lo stanno più dando No eh No eh No Ok No eh La conoscete la teoria del mate Questo uovo diventerà mitico E se volete darmi la forza ragazzi Lasciate un like Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Uno 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 schi Calma Perché non intendevo l'uovo di prima Intendevo questo uovo Questo uovo ci porterà l'uovo leggendario E quindi Lasciate un like Per darmi la forza Faccio il glitch ragazzi guardate Allora questo penso che sia l'ultima graffiata Calma 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 Mitico Uno Due Tre Quattro Cinque Ci abbiamo l'ultimo Ci abbiamo l'ultimo E' fatto Applausi signori Lo Sa Pe Vo Uovo leggendario E se non sbaglio addirittura L'ultimo di questi dodici Non lo so Però ragazzi Ce l'abbiamo fatta Non lo so Vincio la scommessa Che mi sono fatto con me stesso Uovo leggendario Per chiudere il video Fa Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Unde Skin di Brock Che colore Blu Mi piace molto Blu Blu Mi piace molto Vediamo se è l'ultimo uovo Ragazzi Era l'ultimo uovo Io Io vi giuro Io non ci posso credere Potevamo trovare Tante altre skin Tipo questa qua Questa Jackie Potevamo trovare Gli altri colori Questa Maxine Casual Ma ragazzi Devo dire che è andata Veramente Veramente Molto bene Per oggi Mi ritengo soddisfatto